Grazie della linea, siamo in compagnia di uno dei protagonisti della terza tavola rotonda, Tommaso Baldisteri Pacchetta, CEO e founder di CrowdFound.me. Buongiorno e bentrovato. Buongiorno. Tommaso, molti dei nostri telespettatori sicuramente ti hanno visto sul nostro canale perché stiamo seguendo con grande interesse l'evoluzione dell'equity crowdfunding nell'ultimo periodo. In un momento in cui anche l'accesso al credito bancario è sempre più strozzato da tassi di interesse e anche bassi fomentati dalle banche centrali con questa grande iniezione di liquidità, c'è sempre maggiore interesse per le imprese di un accesso a credito alternativo come può essere l'equity crowdfunding. Come l'hai visto evolversi in questi ultimi anni? In Italia devo dire che abbiamo visto un'evoluzione costante e sempre propositiva da parte del regolatore. Ricordiamo che siamo il primo paese al mondo a aver regolamentato questo strumento finanziario, questa forma di raccolta di capitali e fino ad arrivare alla nuova versione del regolamento, ottobre 2019, dove si permette ai portali di andare a collocare mini bond, quindi mini bond che possono essere utilizzati dalle PMI per accogliere capitali, ma al tempo stesso investitori che chiamiamo semi retail possono andare a sottoscrivere per la prima volta nell'ambito della finanza italiana attraverso un portale di equity crowdfunding. Se pensiamo che i mini bond non possono essere sottoscritti da clienti retail neanche attraverso banche o istituti finanziari, diventa sicuramente uno strumento molto interessante per andare a diversificare il proprio portafoglio. Ecco, poi nella tavola rotonda parleremo poi anche proprio della necessità di trasferire dalla finanza all'economia reale delle risorse. C'è una volontà abbastanza significativa da parte del regolatore di andare in questa direzione sia a livello europeo che a livello italiano? Direi proprio di sì, c'è quasi quello che ci percepisce forse la volontà di decentralizzare quello che è l'accesso al credito attraverso piattaforme che chiamiamo le fintech, ricordiamo non solo l'equity crowdfunding ma anche il peer-to-peer lending o l'invoice trading, quindi sempre di più troviamo un regolatore amico di questi nuovi strumenti di finanziamento verso le PMI e di possibilità di diversificare i propri portafogli investendo appunto in economia reale. A quanto ammonta il mercato dei mini bond? All'anno scorso ammontava circa 4 miliardi e mezzo, ricordo che domani verrà rilasciato il nuovo osservatorio politecnico di Milano, andrà a rilasciare la nuova overview sul mercato dei mini bond 2018, 2019 forse anche, e quindi questo andrà a dare sicuramente ulteriore spinta e un focus più chiaro su quello che è il mercato del mini bond attuale. È una grande opportunità sia nell'ottica di diversificare i portafogli anche per gli investitori retail come dicevamo prima nella tavola rotonda sia una grande opportunità per chi ne beneficerà, ovvero per la piccola e media impresa. Assolutamente, ricordiamo che l'Italia è probabilmente uno degli stati più bancocentrici, proprio storicamente, le PMI soprattutto. In questo periodo storico, forse dopo il 2010, c'è stata un'inversione di rotta, quindi quelle che sono oggi le start-up, quelle che sono oggi le nuove PMI, non quelle tradizionali, classiche anni 80, hanno bisogno di nuove fonti di finanziamento, sia lato equity che lato debito. Grazie, Tommaso Baldi Serapacchetti, ci vediamo nella prossima tavola rotonda.